Nel Lazio, una delle zone vitivenicole più importanti è rappresentata dalla denominazione Roma-Doc. Nata nel 2011 con solo 35 ettari evitati, è cresciuta fino ad arrivare agli attuali 235 per una produzione di circa 500.000 bottiglie. A giugno di quest'anno, con l'obiettivo di raggiungere il 100% della filiera iscritta, nasce il consorzio Roma-Doc. Finalmente, anche la Doc, che prende il nome della cosiddetta città eterna, ha un suo consorzio. Cogliamo quindi l'occasione per ricordare quali sono i vitigni principali usati per i vini Roma-Doc. E quindi a Bacca Bianca troviamo la Malvasia Puntinata, il Bellone, il Bombino Bianco, il Trebbiano Giallo e il Trebbiano Verde. A Bacca Rossa invece sono previsti il Montepulciano, il Cesanese di Affile, il Cesanese Comune, il Sangiovese, il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc e il Syrah. Vitigni questi che danno origine a 7 tipologie di vini. Il Malvasia Puntinata, il Bellone, il Romanella Spumante e poi, ovviamente, per gli altri vitigni, le versioni Bianco o Rosso. Che troveremo anche nella versione Amabile e per il Rosso anche in riserva. E per finire c'è anche la tipologia Rosato. Bene, a questo punto la mia curiosità mi spinge a chiedervi quali sono state le vostre esperienze con questi vini. Se invece siete un produttore, inviateci pure una vostra campionatura che valuteremo volentieri.